Benvenuti a un nuovo video Benvenuti al punto settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, conosceranno i telespettatori e chi assiste alla trasmissione in rete, la formula, due consiglieri regionali presenti nello studio, quest'oggi il consigliere regionale del Partito Democratico Giacomo Leonelli. Benvenuti, buonasera. Benvenuti al sisma del 97, ma l'attualità che parla anche di un sisma ben presente. Viene ricordato in tutte le città dell'Umbria, molte manifestazioni. Ecco adesso ad Assisi, allora parto subito con Claudio Ricci, visto che parliamo di Assisi e di fare il punto sulla ricostruzione. Non quella del 97 chiaramente, ma c'è da ricostruire ancora, consigliere. Per i 20 anni dal terremoto credo che sia doveroso ricordare come è stata quella esperienza del 1997 e negli anni successivi, sia in Umbria che nelle Marche, una buona esperienza, una buona ricostruzione. Abbiamo potuto contare su risorse adeguate, vi è stata una ampia anche semplificazione e credo anche i risultati ad Assisi, ma in generale nelle città dell'Umbria siano stati adeguati. Quindi, proprio qualche mese fa, l'Assemblea legislativa dell'Umbria, nel decreto, che poi è divenuta una legge regionale, nella quale si faceva il punto sulla ricostruzione del 1997, come conclusione della ricostruzione, è emerso un dato. Complessivamente sono state gestite, a mio avviso bene, in Umbria e ad Assisi, un totale di 5,5 miliardi di euro. Credo con una buona qualità della ricostruzione che oggi può essere, non dico un modello, perché ogni sisma ha delle caratteristiche specifiche, ma comunque può essere un buon rilievo di riferimento. Per quanto riguarda l'attuale sisma, credo che siano tre gli aspetti dove porre una grande attenzione. Il primo, in Umbria, nel centro Italia, andare più velocemente nella realizzazione di quelle che vengono chiamate le cassette di emergenza, che poi però rimarranno per gli anni della ricostruzione. Il secondo aspetto, che ci viene chiesto anche da molti tecnici, fare in modo che nel proseguo, soprattutto quando dovremo recepire gli atti legislativi nazionali a livello locale, vi sia un forte richiamo alla semplificazione. Più riusciremo a semplificare le procedure e più veloce sarà la ricostruzione. Il terzo aspetto, quello più importante, è la certezza delle risorse. Nel 1997 la ricostruzione fu rapida, anche perché avevamo la certezza delle risorse. Oggi nel centro Italia servono 23,5 miliardi di euro. Per le quattro regioni coinvolte nel quadro del sisma del 2016, noi come Assemblea legislativa dovremmo fare grande attenzione affinché vi sia durante questi anni una ampia certezza di risorse che dovranno essere immediatamente disponibili. Passo subito la palla al consigliere Lonelli perché la ricostruzione post terremoto naturalmente è un tema bipartisan, ovviamente. Sì, ma io intanto ringrazio anche il consigliere Ricci per l'onestà intellettuale che comunque devo dire che lo contraddistingue. Siamo su posizioni diverse, però è sicuramente una persona che quando dice le cose dice quello che pensa e non fa appunto una strumentalizzazione politica di bassa lega, almeno diciamo la maggior parte delle volte. Poi alle volte anche lui si lascia andare. No, questo perché su un tanto come il terremoto invece noi dobbiamo stare attenti a quello che diciamo non solo chi chiaramente governa o chi governava magari nel 1997, ma anche chi per esempio oggi dà l'opposizione io penso che si lascia andare a parole un po' troppo in libertà che nell'epoca della comunicazione globale rischiano di essere dannosissime. Il tema del terremoto in particolare sull'ultimo sisma, quello che purtroppo le scorse più grandi del 24 agosto e del 30 ottobre hanno comunque testimoniato una solidità dell'Umbria diciamo sul tema della ricostruzione come sono state fatte le ricostruzioni in passato più significativa di regioni confinanti. E questo secondo me doveva essere un valore, dovevamo magari raccontarlo meglio. Se l'avessimo raccontato di più, anziché magari sparare sempre sul pianista come si dice da parte di qualcuno, forse magari questo danno al turismo che abbiamo avuto, il cosiddetto danno indiretto rispetto al quale stiamo cercando di intervenire, rispetto al quale abbiamo ottenuto anche su proposta nostra qui in Umbria l'importante riconoscimento anche nelle aree fuori cratere e che ora sarà possibile appunto accedere al risarcimento attraverso i decreti che il governo dovrà emanare. Però ecco anche lì se avessimo difeso un po' più il nostro modello tutti insieme probabilmente avremmo magari avuto qualche danno in meno anche rispetto a questo tema, perché poi nell'epoca della globalizzazione, della comunicazione globale, oggi per esempio il sindaco di Amatrice ha avuto un'uscita del tutto improvvita sul tema degli SMS. Sono contento che gli ha risposto il sindaco di Norcia che è di centrodestra. La cronaca ha detto che sono spariti i soldi e le risorse provenienti dagli SMS. Ecco, dire una cosa del genere per poi fare marcia indietro per chi ti si è accorto che hai detto una castroneria, ha un effetto moltiplicatore su quella che è la credibilità delle istituzioni, non solo rispetto al tema dell'onestà di chi magari si spende giorno per giorno. Quindi ecco, ripeto, le parole vanno pesate su un tema così importante come il terremoto. Ora, velocemente, è stata fatta una buona ricostruzione del 97, sì, però dobbiamo anche magari capire che come diceva il consigliere Ricci, la ricostruzione di oggi non è quella del 97 perché sono diversi comuni, è diverso il tessuto del territorio. Io penso che abbiamo anche imparato da alcuni, tra virgolette, errori. Il fatto di aver messo nella ricostruzione 2016 il tema delle seconde case non è banale perché se noi andiamo nei territori del 97, vediamo bellissime prime case ricostruite, solo che abbiamo due effetti. Il primo è che quei paesi si sono svuotati nel frattempo perché la ricostruzione comunque ha portato a una deantropizzazione, cioè il fatto che i cittadini nel mentre si sono spostati da quei comuni sono magari andati a abitare nei grandi insediamenti. E poi le seconde case non sono state ricostruite, quindi abbiamo 3, 4, 5 case ricostruite bene, belle, e poi c'è la casa che è stata completamente distrutta, che è rimasta distrutta in quel modo. E questo chiaramente poi tende a ledere anche un po' l'immagine complessiva di quel territorio. Per cui penso che ogni terremoto va vissuto e governato in maniera diversa. Impariamo ogni volta, non tanto dagli errori, ma magari correggendo il tiro su quello che magari sembrava che vent'anni fa fosse stato il modello più congruo. Sapendo che anche qui, ripeto, cambia la storia, è diversa la morfologia dei paesi e dei territori, ed è diversa anche la risposta che poi le istituzioni e la politica devono dare. Fermo restando che sicuramente il 97 è stato, soprattutto in Umbria, un modello anche di onestà. Non ci sono stati indagi, non ci sono stati arresti, non ci sono stati... Guardate che non è così banale, perché quello che dice il Consigliere Ricci, che io condivido che il grande limite di questa fase di ricostruzione è la burocrazia, è il procedimento farraginoso, dovrebbero essere più snelli, vero, però è anche vero che si è pensato di mettere un freno alla possibile corruzione che c'è stata in altri territori, perché le vicende di L'Aquila ce ne ricordiamo tutti, con una rigida regolamentazione normativa e burocratica. Purtroppo la burocrazia non è amica della velocità. Nel 97 i poteri anche di chi poi aveva il dovere di decidere in maniera diciamo anche più semplificata e più veloce erano sicuramente più ampi rispetto a quelli di oggi. Sì, certamente è una situazione ben differente. Cambio argomento perché passa il tempo e passo anche ad un'altra questione che volevo focalizzare con voi consiglieri. Il problema del lavoro in Umbria purtroppo è sempre una delle emergenze, veramente alla pari proprio della ricostruzione. Una regione dove ci sono ancora grandi presenze industriali, ma c'è il problema delle delocalizzazioni, c'è il problema di grandi gruppi che dettano delle linee sulle quali poi naturalmente ricadono ovviamente sui lavoratori. Faccio dei nomi a caso. L'acciaieria di Terni, la Tissen con un nuovo piano, la Perugina, io continuo a chiamarla sempre così, la Nestlé, Novelli, c'era la Merloni, la Colussi. Marchi, nomi importanti, ma un mondo del lavoro in crisi sicuramente in Umbria. Posti del lavoro che sono in dubbio. Riparto dal consigliere Ricci. Quale strategia consigliere? Il lavoro trova un suo connubio con un altro elemento, la capacità di aiutare le imprese e quella di attrarre nel proprio territorio le stesse imprese. Se non si sviluppano le imprese, non vi è la possibilità di offrire lavoro. Su questi temi entrano molti aspetti, dalle infrastrutture di trasporto, dove l'Umbria deve recuperare molto, alla defiscalizzazione delle imprese. L'Umbria potrebbe fare un lavoro, seppur mirato, per esempio riducendo l'IRAP, l'imposta regionale attività produttive, la semplificazione, ridurre i tempi di rilascio delle autorizzazioni e più in generale a costruire un sistema che sia attrattivo di opportunità e di investimenti, cercando sempre di fare scelte legate al merito, al meglio. I dati non sono incoraggianti. Negli ultimi dieci anni, non cito le numerose statistiche, l'Italia ha vissuto una deflessione in termini di prodotto interno lordo pro capite. Alcune regioni vicine a noi, le Marche, hanno avuto un andamento simile alla media italiana. La Toscana addirittura ha avuto un incremento, sempre nel prodotto interno lordo pro capite. L'Umbria ha avuto una deflessione, calcolabile in circa, in dieci anni, di meno 2.000 euro di prodotto interno lordo pro capite rispetto alla media nazionale, che già era in decrescita. Ha trovato quindi un sistema economico più fragile. Come agire? Spesso in Assemblea Legislativa, ho ricordato le misure che ho appena citato, ma non scordiamoci che i bilanci della regione Umbria, direi delle regioni italiane, oggi in parte corrente, hanno sempre meno risorse libere da poter destinare ad investimenti. Quindi occorre ridurre sprechi e inefficienze. Io attendo con ansia la riforma delle società partecipate in Umbria. Sono 57, vanno riorganizzate, ridotte. Bisogna recuperare risorse anche attraverso questo ed investire di più in sostegno alle imprese, sociale, sviluppo economico, semplificazione. Poi ci sono i fondi strutturali dell'Unione Europea. Questo settennato, che ormai si avvia ad essere concluso nell'anno 2020, e poi ci sarà il successivo, dal 2020 al 2027. Io ritengo che le risorse europee vanno utilizzate avendo fatto prima un piano di marketing operativo, cioè avendo stabilito esattamente quali sono le priorità per questi investimenti. Agire sul lavoro non è facile, ma è la somma di questi elementi dove, a mio avviso, il più importante è lavorare molto, posta di bilancio, dopo posta di bilancio, per ridurre sprechi e inefficienze. E ce ne sono in tutte le amministrazioni pubbliche. E con quanto si ricava, agire molto per defiscalizzare le imprese che investono, sviluppare i sistemi di trasporto, semplificare e quindi agire su tutti quegli elementi che possono detonare un chiaro sviluppo economico. Non è un processo facile, è un processo strategico che va condotto con una grande continuità. Le famiglie povere del nostro territorio, che hanno problemi di lavoro, ma anche di casa, sono ormai in un numero rilevante. Tant'è che i poveri, in una situazione complessa in Umbria, hanno raggiunto circa il 12% complessivo. E quindi credo che il lavoro meglio. Come sostenere le attività e attrarne di nuova nel nostro territorio sia non uno dei temi. Il tema per dare poi l'elemento più importante ad una persona che è la dignità, che arriva soltanto quando c'è un posto di lavoro. Questa è la strategia del consigliere Ricci, ma naturalmente anche nell'agenda del Partito Democratico il tema del lavoro sarà sempre in prima pagina, immagino, consigliere Leonelli. Sicuramente, tra l'altro abbiamo fatto un'assemblea programmatica proprio il 9 e il 10 settembre, dove abbiamo anche partorito alcune proposte importanti sul tema del lavoro. Prima però volevo un attimo fare un ragionamento di contesto regionale. Allora, intanto i dati che raccontava il consigliere Ricci sulle difficoltà dell'Umbria di questi anni vanno, secondo me, un attimo spiegati. L'Umbria è una regione che aveva, diciamo, o meglio, si è trovata negli anni della crisi nel momento in cui finiva il suo modello di sviluppo e doveva comunque diciamo, ragionare su un modello nuovo. Era il modello di sviluppo a forte trazione pubblica nel Perugino. Io dico sempre che, io sono Perugino, quando andavo a scuola almeno un genitore su due dei miei compagni di scuola faceva il dipendente pubblico. Ora l'aspettativa di quelli di 30 anni di fare il dipendente pubblico in Umbria è intorno al 15%. A Terni c'era un insediamento sul Ternano, un insediamento industriale imponente. Quando incontri un Ternano ti dice che almeno un nonno lavorava in acciaierie. Quindi voglio dire era una realtà diversa la realtà del passato e della realtà pre-crisi. L'Umbria si è trovata in quella crisi con la fine di quel modello perché chiaramente era un modello che veniva a contrarsi progressivamente e in più in una regione che non aveva fatto dove non c'erano stati investimenti sul tema dell'innovazione perché anche la piccola e media impresa si reggeva molto e quasi esclusivamente sulla domanda interna. Quando è entrato in crisi quel modello quella rete di piccole e medie imprese si è trovata in grande difficoltà perché nella competizione globale partiva svantaggiata rispetto alle altre perché appunto fino allora non ha mai ritenuto così emergenziale investire sul tema dell'innovazione e confrontarsi anche con altri mercati. Detto questo che modello di sviluppo dobbiamo proporre? Noi abbiamo detto alcune cose intanto valorizzare il nostro miglior DNA abbiamo detto di concentrarci su una proposta sui temi della bellezza e qualità come modello di sviluppo per la regione abbiamo fatto un ultimo focus sul tema riqualificazione e rigenerazione urbana proprio sabato a Gubbio come partito democratico abbiamo anche analizzato alcuni dati interessanti dal 2008 ad oggi l'Umbria praticamente ha quasi recuperato del tutto gli occupati ne ha persi molti oggi i numeri assoluti sono quasi tornati sullo stesso livello qualche migliaio in meno un paio due o tre mila in meno come totale degli occupati in Umbria c'è un problema che però ha perso il 40% dei giovani sotto i 30 anni e ha perso il 20% dei giovani sopra i 30 anni cioè la crisi economica è stata un tappo per una nuova generazione per cui io penso che dovremmo rivolgersi soprattutto da un lato a quelli che hanno perso il lavoro e non sono abbastanza anziani per andare in pensione ci sono generazioni di 40-50 anni che si trovano in mezzo alla strada perché magari la loro impresa ha chiuso e non possono chiaramente ragionare su una prospettiva di pensione o meglio non possono ancora ragionarci dal lato però concentrarsi sui giovani abbiamo messo in campo alcune idee appunto bellezza e qualità come modello di sviluppo con una legge regionale che vuole essere la prima legge regionale a fare di questi temi appunto una proposta concreta economia circolare ragioneremo del cosiddetto lavoro di transizione che è un'idea importante che già in alcuni paesi è stata strutturata ragioneremo anche di altre misure innovative sul tema del credito che è un tema fondamentale per le nostre imprese e poi comunque anche qui serve uno sforzo sulle infrastrutture ma questo noi non l'abbiamo negato abbiamo detto che l'Umbria deve collegarsi in questa legislatura all'alta velocità io tra l'altro sono il primo firmatiare di una mozione sul Frecciarossa in Umbria che è stata approvata firmata anche da altri colleghi del PD a dimostrazione che chiaramente per noi questa è la priorità perché comunque proprio nel mercato globale devi comunque attrarre investimenti diversi e devi essere competitivo in questo senso ci sono tante altre cose ci sarebbero tante altre cose da dire sulle crisi aziendali mi faccio a dire le cose non conta tanto purtroppo che la crisi aziendale sia nel tuo territorio perché può capitare capita in tutte le regioni però conta come l'affronti a Termi per esempio nella scorsa vertenza AST l'Umbria ha avuto la forza di fare squadra capitanata dalla loro giunta regionale e di portare a casa un risultato soddisfacente spero che con la Perugina accada lo stesso io sarò insieme ai lavoratori mercoledì nel loro sciopero generale e invito tutti i rappresentanti delle istituzioni ad esserci dopodiché ci sono le crisi che la raccontava ma attenzione perché il mondo del lavoro oggi è un mondo farraginoso e imprevedibile io per esempio ho presentato un'interrogazione su un settore su un'azienda che opera su un settore come l'e-commerce cioè appunto il Corriere Espresso di un'azienda multinazionale che opera in Umbria che oggi vede una vertenza aperta dei propri lavoratori cioè non ci sono soltanto che è GLS non ci sono soltanto le grandi imprese che magari soffrono la crisi ci sono purtroppo oggi problematiche nel mondo del lavoro perché vengono licenziati o vengono chiaramente non rinnovati i contratti anche in settori che teoricamente sono in grande espansione per cui chiaramente è un sistema difficile complicato e la politica deve vigilare senz'altro visto che entrambi avete toccato un argomento quello dell'attrattività e quindi per attrarre bisogna dar modo di venire Claudio Ricci bisogna venire in aereo in treno e qui in Umbria siamo indietro anche il consigliere Leonelli l'ho appena evidenziato con tutti i problemi della ferrovia Umbra la ex FCU ma anche appunto con il discorso dei treni veloci lei si è speso parecchio su queste problematiche e devo dire che anche noi viaggiatori vorremmo in effetti qualche risposta dal mondo della politica non da voi due in particolare ma insomma mi pare che c'è molto da sviluppare sia per quanto riguarda il trasforto ferroviario che anche l'aeroporto di Perugia siamo quasi a metà della decima legislatura regionale io ho presentato circa 400 atti legislativi e molti di questi erano sul tema dei trasporti la ferrovia centrale Umbra è stata chiusa perché a mio avviso tecnico non vi è stata una programmazione adeguata delle manutenzioni peraltro in questo momento io credo che le risorse non sono sufficienti per poter traguardare a questa infrastruttura ad una riqualificazione ampia che possa riguardare anche le stazioni e sin anche la possibilità di trasformarla in una metropolitana leggera utilizzando anche i tram treni sull'alta velocità ferroviaria credo che condividiamo un elemento è ormai determinante per le città e per le regioni io sto sollecitando l'idea che comunque l'alta velocità ferroviaria deve originarsi attraverso i Frecciarossa 1000 da Terni toccando le principali città dell'Umbria Spoleto Foligno Assisi Perugia Terontola e poi arrivare ad Arezzo e quindi in quel momento entrare nelle linee ad alta velocità è un tacito che si attacca al Frecciarossa mi faccia capire diciamo è un tacito che viene potenziato dal punto di vista delle tecnologie va più veloce ovviamente durante il quadro Umbro anche se non velocissimo come si dice a rango ridotto poi nel nodo di Arezzo prosegue invece a velocità ferroviaria adeguata cioè a circa 300 km all'ora nel frattempo però dobbiamo cercare di fare altre scelte incisive per esempio il raddoppio ferroviario del tratto Spoleto Terni o il raddoppio selettivo del tratto Foligno Terontola e io insisto molto perché la stazione ferroviaria a media alta velocità sia realizzata vicino all'aeroporto perché questo andrebbe a creare un sistema intermodale per Perugia in particolare fondamentale mentre Terni deve sempre più guardare alle connessioni trasportistiche con Roma e Civitavecchia l'aeroporto e concludo per sintesi credo che la strada sia quella di fare accordi stabili con compagnia aeree low cost però di rilievo italiano internazionale ovviamente Ryanair sta vivendo dei problemi ma ci sono compagnie come EasyJet per esempio che sono compagnie che assicurano non solo collegamenti aerei ma assicurano anche la capacità attrattiva turistica perché sono divenuti anche dei veri propri tour operator non vendono solo il posto che viaggia insieme al posto che viaggia verso l'Umbria vendono anche turismo prodotti turistici servizi sull'aeroporto e la gestione dello stesso aeroporto attraverso la SASE io credo che bisogna fare più attenzione perché l'esperienza che stiamo vivendo con Fly Volare deve comunque determinare più prudenza è stato fatto un accordo con una compagnia aerea Fly Volare rispetto alla quale è stata fatta una conferenza stampa si diceva entro fine settembre avremo le autorizzazioni diceva la compagnia aerea io mi auguro che tutto ciò avvenga ma a oggi queste autorizzazioni non ci sono le due necessarie per volare e l'ENAC ha sino anche fatto delle azioni incisive per chiedere spiegazioni di quello che sta avvenendo vere e proprie diffide quindi anche qui occorre muoversi con prudenza sviluppare linee aeree ma creando accordi con compagnie aeree che possano garantire non solo ampi collegamenti europei internazionali ma sino anche una grande solidità consigliere Leonelli lei citava prima il frecciarossa perché non le è sfuggita questa faccenda cioè dovrebbe partire un frecciarossa anche nel nostro territorio no non solo non mi è sfuggita ma io sono ripeto il primo firmatario nonché illustratore in consiglio di una mozione che è stata approvata che dice esattamente questo quindi non mi è sfuggita ma adesso ci sarà speriamo il prima possibile so che l'assessorato è in interlocuzione con FS per capire il tecnicamente come fare e diciamo come lavorare in tal senso velocemente perché il consigliere Ricci mi ha mangiato tutto il tempo visto però io l'ho detto qui noi non possiamo permetterci una guerra dei campanili per poi non fare nulla io penso che l'Umbria è una regione piccola però ha esigenze diverse le esigenze di Perugia non sono quelle di Terni che non sono quelle dell'area del Trasimeno e tutto però attenzione se noi cominciamo a fare le guerre di religione sulle varie ipotesi che vengono messe in campo che poi non è che l'una esclude l'altra per esempio in questi giorni c'è questa ipotesi del Frecciabianca su Chiusi che di fatto è un comune confinante con l'Umbria perché città della Pieve e l'Orvietano se ci fosse questa possibilità io sarei favorevole quindi non è che però preclude poi il Frecciarossa a Perugia o l'idea di Ricci che è anche un'altra idea che appunto io non è che sono contrario all'idea del Frecciatacito però partiamo partiamo da qualcosa perché se non partiamo mai e cominciamo a dividerci su quello che per noi è meglio magari in rapporto al nostro collegio elettorale dove prendiamo più voti e dove pensiamo di fare più contenti gli elettori noi non partiamo mai e rimaniamo ancorati a questa partita come purtroppo siamo rimasti ancorati per troppo tempo su tutto il resto ho già detto tante volte l'Umbria su questo tema e la regione si giocherà la valutazione di questa legislatura su FCU se ripartirà come promesso la valutazione sarà positiva altrimenti non sarà positiva su il treno sull'aeroporto mi pare che già è stato fatto comunque qualcosa di positivo aver riportato i bilanci in pareggio quando gli altri aeroporti nel centro Italia sono praticamente con i libri di tribunale è un qualcosa di importante e meritorio dall'anno prossimo dovrebbe partire la rotta su Francoforte che comunque è una realtà che è un hub importante in tutte le rotte internazionali passo dopo passo non perdendo tempo ma insomma diciamo che qualcosa in questo senso si sta muovendo fermo restando poi le accortezze nei rapporti con le compagnie Locoste che penso che siano doverosi quindi la politica farà comunque un'azione di intanto mettere giù qualcosa per cominciare sicuramente mi sembra che però su questo c'è grande attenzione anche noi come consiglio regionale anche noi come partito democratico stiamo lavorando molto in questo senso ci rendiamo conto che questa è una partita sulla base della quale la valutazione di questa legislatura avrà il pollice su piuttosto che il pollice giù perché non sono più rinviabili tante cose delle cose importanti sono state fatte anche in questa legislatura l'inaugurazione della quadrilatero poi una volta che noi abbiamo una cosa ci dimentichiamo subito magari dell'importanza però è stato già un passo avanti importante che il collegamento strale verso le marche ora serve lavorare per l'aeroporto per renderlo sempre più competitivo e sempre più appetibile lavorare sull'FCU per tornare non per tornare ai livelli di prima perché poi qui altro che una trasmissione perché l'FCU se è in questa situazione perché per nessuno l'ha mai considerata una priorità nell'Umbria questo nessuno la classe politica la classe imprenditoriale nessuno è sempre stato il trasporto residuale di quelli che non si potevano muovere diversamente diciamo la verità e questo purtroppo ha generato questa situazione magari una metropolitana di superficie che colleghi Perugia Eterni in tempi ridotti com'è la prospettiva di Trinitale della regione potrebbe appunto anche rilanciare l'aeroporto stesso attraverso quello che è il progetto che ha in sé FCU Perfetto ho mangiato anche io qualche minuto e ci siamo occupati di temi importanti e naturalmente attendiamo anche gli sviluppi futuri che non sono legati solo alla politica però è importante anche far conoscere il pensiero l'orientamento delle istituzioni e quindi dei rappresentanti della politica e del popolo su questi temi così grazie per averci seguito anche oggi appuntamento alla prossima settimana grazie per averci seguito Grazie.